300 cuori bianco-verdi pronti per la sfida di questa sera in terra pugliese. Gli Ultras si preparano a sostenere anche la squadra in quel di Foggia in un match in programma in un giorno lavorativo alle 20.30. Dopo il ritrovato feeling delle ultime giornate grazie alla cura rastelica con due vittorie di un pareggio ha tritato entusiasmo facendo riaccendere nuovamente la scintilla tra squadra e tifosi si riparte alla volta della Puglia. In una partita sentita in una sfida contro una formazione che come gli Irpini è in netta ripresa. Intanto, prima in vista del match in programma questa sera al Pino-Zaccheria, sono giunte le indicazioni della questura. L'arrivo a Foggia dei pullman della tifoseria bianco-verde dovrà avvenire non oltre le 18.30 percorrendo l'autostrada A16 con uscita al casello di Candela. La tifoseria bianco-verde sarà raggruppata dalle forze dell'ordine e indirizzata fino all'area dell'autoparco centro raccolta della Polizia di Stato Ciotta a corso del mezzogiorno dove saranno fermati gli automezzi. Da lì i supporter sirpini verranno scortati fino al settore ospiti dello stadio Zaccheria. Il trasferimento all'impianto foggiano avverrà a bordo degli autobus dell'azienda locale.